Grazie a tutti. La stazione ferroviaria di Marotta il comune acquista all'asta un terreno edificabile per realizzare 80 nuovi posti auto. Aset S.P.A. ottiene la riconferma di tutte le certificazioni, impianti, gestione e dipendenti. Le indagini rinevidenzano l'eccellente lavoro svolto dalla società dei servizi. Dagli Stati Uniti alla Cina, dal Ghana al Peru, premiati in prefettura Pesaro e 21 ragazzi vincitori del concorso Intercultura che partiranno per vivere e studiare all'estero. Prodetto Fest, i sapori dell'Adriatico alla conquista di Londra, grande successo per la missione di Fano nella più grande metropoli europea, nuovi accordi commerciali in vista del volo estivo verso la città inglesa. Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. Grazie a tutti. Una precipitazione potentissima di acqua e grandine cadute in pochi minuti in una parte di città, ha commentato sui social il sindaco Matteo Ricci. Gli allagamenti aggiunto ci risultano in via Cavour, via Mameli, Campo Sportivo, sottopasso Cappuccini, sottopasso di via Rossi, via Madonna di Loreto e zona Calcinari. Verifica in corso anche in via Lago Trasimeno e via Passeri. Disagi, sia l'agricoltura che la circolazione, ci sono stati segnalati in diverse zone della provincia, come nei comuni di Cartoceto e Colle al Metauro. Lungo la superstrada Fanno Grosseto, all'altezza di Serungarina, tra Candelare e Pesaro, dove è stata chiusa la strada a causa del fango e sulla Flaminia Tavernelle, chiusa per Frana. Diversi poi sottopassi allagati e inagibili. Guardate invece questo video girato all'interno del bar Polvere di Caffè in via Fratti a Pesaro. E Ricci ha fatto sapere che a Pesaro non risultano danni a persone che sono entrati in azione tutti i mezzi della protezione civile e dei vigili urbani. Stiamo assistendo sempre più a fenomeni tropicali, ha commentato il sindaco. Temo che il cambiamento climatico sia più veloce di ciò che immaginiamo. E la grandinata fa seguito alla bomba d'acqua di ieri che ha colpito diverse zone del Pesarese. Sono bastati circa 10 minuti di forti precipitazioni per allagare le strade, non solo nella zona di Pontevalle dove l'asfalto è stato ricoperto d'acqua e fango. Sul posto i vigili del fuoco, la protezione civile, la polizia locale e quella provinciale, oltre ai tecnici e agli operatori della provincia, è una ditta specializzata. La strada è rimasta chiusa al traffico fino alle ore 23. Situazione critica anche a Villa Ceccolini, una frazione di Pesaro dove un fiume di fango è sceso dalla collina andando ad invadere i cortili delle case e la strada principale di Via Lago Maggiore. immediato l'intervento di un escavatore, chiamato dagli stessi residenti, che ha liberato l'esterno delle abitazioni dal fango e dai detriti. Ancora cronaca, con un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio a Fanno, è successo intorno alle ore 15.15. Un'autovettura Chevrolet Matiz, guidata da un pakistano di 21 anni neopatentato, stava percorrendo la strada provinciale 45 con direzione Maremonte, quando ha perso il controllo del veicolo a causa della forte pioggia. La vettura ha invaso la corsia opposta ed è andata a scontrarsi con una Citroen C3, con a bordo una donna di Pesaro di 55 anni. La Matiz per l'urto si è rigirata fino a fermarsi nella sua corsia. Intervenuti il 118, il 115, il commissariato, il carroattrezzi per la rimozione dei veicoli fortemente danneggiati, la ditta specializzata per la pulizia della strada. Sul posto, logicamente, anche la polizia locale di Fanno per i rilievi di legge. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa un'ora. Ora cambiamo argomento per parlare di un furto d'identità che vede coinvolta un insegnante. La vittima senza numero di cellulare, senza possibilità di accedere alla posta elettronica e a denaro, ha raccontato l'accaduto a Marco Lonigro ad intervenire anche il suo avvocato Pia Perricci. Incubo senza fine per un insegnante che ormai da diversi mesi è alle prese con un grave furto d'identità. I primi segnali d'allarme sono scattati con alcune difficoltà nell'accedere all'account di posta elettronica. Inoltre il cellulare dell'insegnante risultava bloccato. Da lì a poco la denuncia dell'accaduto ai carabinieri. Io non avevo più accesso a niente, non potevo comunicare con nessuno. Allorché mi sono allarmata perché mi ero resa conto dell'accheraggio delle mail, dell'accheraggio di questo telefono, quindi l'avevo capito, e mi sono rivolta immediatamente a un numero verde per bloccare la mia sim e sono scappata proprio letteralmente dai carabinieri di Vallefoglia, dove abito io, per denunciare l'accaduto. Quindi in data 27 marzo io ho esposto la mia prima denuncia, chiaramente contro ignoti. Sono andata in un centro per effettuare il recupero della mia scheda. Ho dovuto chiedere la sostituzione della scheda proprio per riappropriarmi del mio numero di telefono. Ho dovuto aspettare 48 ore per avere il recupero del mio numero telefonico e nel frattempo ho saputo che la mia scheda, il data 26 marzo, quindi proprio il giorno in cui io mi ero resa conto, di questa scheda era stata chiesta la sostituzione in un centro di Catania. Ora io quel giorno ero a Pesaro, mi chiedo come facevo ad essere a Catania. Da lì sono partite una serie di situazioni fraudolente, a mio nome, per le quali ho dovuto non solo esporre e fare denunce a Catena, sono arrivata forse all'ottava denuncia, ma chiedere chiaramente di essere assistita al mio legale. La vittima del furto d'identità, una dipendente della pubblica amministrazione, ha dovuto fare i conti con alcune difficoltà nel ricevere lo stipendio. A causa di tutto ciò che loro sono riusciti a fare con la mia scheda SIM, perché i dati poi sono salvati sempre su Google, quindi non so in che modo perché non sono così tecnologica, sono riusciti a accherarmi anche lo speed, uno speed che chiaramente abbiamo capito che non è così sicuro come ci vogliono far credere. Sono entrati in Noipa e hanno cambiato persino l'Iban di accredito del mio conto corrente, che è andato a finire in un conto corrente presso una banca, su un conto corrente non intestato a me. Quindi al momento mi ritrovo senza la carta di credito, senza la carta d'identità, perché me l'hanno clonata e quindi ho dovuto bloccare, senza stipendi, senza neanche la patente, perché ieri mi sono resa conto che siccome la mia carta d'identità è stata bloccata, adesso stanno utilizzando la patente. Stamattina sono dovuta andare alla motorizzazione a bloccare la patente. Nonostante le tante denunce, sono emerse poche novità dall'attività investigativa. A tal proposito è risultato importante l'intervento dell'avvocato Pia Perricci, che tramite alcune indagini difensive ha raccolto informazioni rilevanti. Inizialmente abbiamo iniziato con tutta una serie di diffide. Adesso inizieremo delle azioni legali, perché purtroppo dal 27 di marzo, che è stata fatta la prima denuncia, sinora non si è mosso nulla. Quello che è stato scoperto è stato scoperto grazie a indagini difensive. Infatti siamo riusciti ad avere i nominativi di due persone che fanno a capo di questa banca, un pluripregiudicato che vive in provincia di Catania e una signora nata a Napoli, fra i quali ci sono stati questi scambi di conti correnti bancari e scambi di accrediti. Però noi stiamo aspettando delle spiegazioni. Spiegazioni dal Ministro, perché la legge di bilancio del 2018 prevede che gli stipendi non possano essere accreditati su conti correnti intestati a terze persone. E invece il sistema Noipa ha accreditato questo stipendio senza fare una piega. C'è una falla grandissima all'interno dello speed, perché questo speed viene richiesto così telematicamente senza fare registrazioni. Quindi chiunque si può sostituire una persona. Di fatto noi oggi abbiamo una doppia personalità, perché abbiamo la mia assistita che non ha più un'identità e un'altra persona che va in giro per l'Italia a vendere, acquistare, chiedere finanziamenti, tutto a nome della mia assistita. Ci devono dare delle spiegazioni e vogliamo sapere come mai questa lentezza nelle indagini. Avvocato, un consiglio per evitare altre truffe? State attenti a tutto ciò che mettete in rete. Non condividete mai documenti tramite WhatsApp, perché chiunque ha accesso al vostro WhatsApp può clonare la vostra identità e c'è un avatar in giro che fa quello che voi non fate. L'unità operativa complessa di senologia dell'asta di Pesero Urbino resta un'eccellenza della sanità marchigiana, che ogni anno continua a registrare numeri importanti per la presa in carico del paziente con diverse patologie legate al seno. Infatti, il 25% di mobilità attiva da fuori regione nel 2022 riguarda oltre 1.100 interventi di chirurgia senologica tra le strutture ospedaliere di Fano e Urbino. Continuano ad aumentare i casi che trattiamo, ha spiegato Cesare Magalotti, direttore dell'unità operativa complessa di senologia Breast Unit. Quest'azienda ha a disposizione le apparecchiature necessarie per poter realizzare la presa in carico a 360 gradi dei pazienti, riuscendo a rispondere ai diversi bisogni di salute e di chi sceglie ogni anno di essere curato dai nostri medici e infermieri. Un lavoro frutto della competenza, conoscenza, preparazione, passione, umanità e professionalità degli operatori che lavorano nei nosocomi di Urbino e Fano. E Luca Ceriscioli, ex governatore della Regione Marche, è tornato a parlare della sanità regionale all'iniziativa organizzata dal PD di Villa Fastigi dal titolo Sanità Marche, un piano dei sogni e l'incubo della realtà. Sentite. Beh, è fortissima la distanza tra quello che hanno promesso due anni e mezzo fa in campagna elettorale e quello che hanno realizzato. Ma ormai alcuni cavalli di battaglia sono anche proprio spariti dall'agenda politica. Penso ai cittadini di Fossombrone, di Sassocorvaro, di Caglia, i quali avevano promesso la riapertura di ospedali pubblici perché era stato un atto scellerato quello di chiuderli. Oggi non sono, credo, più neanche all'ordine del giorno, non c'è una riga nel piano sanitario regionale che recupera questa idea che io ovviamente non condivido perché ritengo impraticabile, ma non per una forma di accadimento di coperti di cittadini perché hanno bisogno di servizi ma dati in un'altra maniera e questi sono spariti. Il privato che era il nemico numero uno si aprono con dei bandi di gara molto probabilmente l'ingresso di nuovi privati nella Regione Marche che non c'erano neanche prima. Quindi addirittura un incremento di soggetti che ci lavorano con i gettoni, i medici a gettoni abbiamo visto già quanta spesa è andata in questa direzione. Che mentre prima magari si lamentavano che era difficile prendere una visita oggi è diventato da difficile impossibile e si è spostato il problema anche sugli interventi cosa che io francamente non avevo mai sentito fino a epoche più recenti. L'idea migliore resta quella del nuovo ospedale a Muraglia qual è il suo punto di vista? Più che altro l'ospedale a Muraglia è che tu in una provincia di 350.000 abitanti di ospedali di primo livello ospedali qualificati ne puoi avere al massimo due. La scelta che fecero tanti anni fa le amministrazioni di Pesorefano di ragionare insieme con un osocomio mettendo insieme le risorse a servizio di tutta la provincia e dico anche di tutta la Regione era un'idea vincente perché ha permesso negli anni di avere tante specialità che prima non c'erano. Quindi sono aggiunti l'emodinamica la radioterapia la radiologia interventista anche un livello molto elevato nella qualità dei servizi la robotica in chirurgia vi dicendo. Cioè è stato un costante incremento di alta specializzazione. Tornare indietro significa tornare a quello che eravamo vent'anni fa dove avevi tanti doppioni molto simili fra loro e costingevano i cittadini a trovare le risposte qualificate fuori dal territorio provinciale. Promettere tutti a tutti vuole fare tanti ospedali qua sparsi per la provincia poi il risultato che si ottiene è che ottieni tante realtà squalificate in un momento in cui poi oltretutto i medici non ci sono e poi faresti fatica anche a trovare i medici per mantenerlo. Insomma la direzione che è stata data di andare verso ospedali di livello provinciale qualificati eccetera oggi va esattamente in direzione opposta e come ci siamo accorti in due anni e mezzo delle mancate promesse purtroppo nel tempo ci accorgeremo di quanto sia pesante la scelta di aver chiuso l'esperienza di Marche Nord e di promuovere diciamo l'ospedale di città sì più vicino ma che poi ci dà poco. Ultimissima un consiglio da ex governatore? Il taglio ideologico cioè affrontare la sanità con un pensiero puramente ideologico poi si infrange contro la realtà. Uno vuole ridimensionare il privato eccetera adesso si trova ad incrementarlo come fa a spiegarlo? È molto più chiaro dire che il pubblico privato deve essere fra loro complementare quindi a seconda anche delle necessità che ho posso fare ricorso al privato senza enfatizzare questa scelta e rischio appunto di chi invece affronta le cose ideologicamente creare situazioni talmente gravi che poi non si gestiscono più quindi via tutte queste frasi ad effetto che hanno retto negli anni diciamo la narrazione di destra e ora di fare i conti con la realtà togliendo un po' come stanno le cose probabilmente si riuscirà a fare meglio Il Comune di Mondolfo è al lavoro per realizzare un parcheggio lungo la statale tra il sottopasso di via Togliati e il distributore di carburante sentiamo i particolari nel servizio che è stato realizzato da Filippo Pucci Lavori in corso lungo la statale adriatica Marotta di Mondolfo per la realizzazione di un nuovo parcheggio gratuito al servizio di cittadini e per turisti in vacanza nel periodo estivo l'area sosta infatti sorge a soli 300 metri dalla zona mare e più precisamente tra il distributore e il sottopasso Togliati il terreno di una superficie di circa 2500 metri quadrati è stato acquistato all'asta dal Comune per una cifra di 76 mila euro in questi mesi Ruspe e Camion sono già in movimento per completare la prima parte dei lavori per l'arrivo della bella stagione Sì abbiamo avviato i lavori per un grande parcheggio sulla statale il Comune di Mondolfo ha recentemente acquistato all'asta un ampio terreno situato qui al centro di Marotta in una zona strategica lungo la statale tra il sottopasso Togliati e Piazza Roma ed è un primo step necessario per proseguire con l'obiettivo dell'amministrazione di realizzare un grande parcheggio in un'area di circa 2500 metri dei quadrati che il Comune di Mondolfo ha acquistato nei mesi scorsi abbiamo avviato la progettazione per la realizzazione di un parcheggio di circa 90 posti auto intanto abbiamo iniziato i primi lavori per rendere quest'area fruibile per l'inizio della stagione estiva ed è un servizio importante sia per le attività qui lungo la statale ma anche per i turisti e tutti coloro che raggiungono il nostro lungomare durante la stagione estiva i lavori inizialmente prevedono una pavimentazione instabilizzata poi nei prossimi anni dovremo inserire delle risorse nel bilancio comunale per realizzare il parcheggio con asfaltatura con illuminazione e alberature il parcheggio comunque sarà gratuito e poi aggiorneremo nelle prossime settimane la cittadinanza su quando sarà fruibile e rimaniamo a Mondolfo per la segnalazione arrivata da un nostro telespettatore che denuncia lo stato di degrado di via Rio Maggiore secondo voi c'è scritto un messaggio è possibile percorrere questa strada senza rompere niente e quando piove diventa un disastro a Fano invece un reporter di strada ci ha segnalato la situazione di precarietà in cui versa un palo situato sul vialetto che conduce alla spiaggia dell'Arzilla potrebbe essere stato urtato da un veicolo e qualcuno ha commentato il telespettatore ha messo un laccetto per tenerlo invece i consiglieri della Lega Fano hanno depositato un'interrogazione sulla scuola dell'infanzia di Torrette questi bambini non sono di serie B hanno commentato la giunta seri si è attivi per provvedere alla manutenzione degli spazi interni ed esterni lasciati al degrado per mancanza di programmazione nonostante le evidenti necessità i genitori hanno riferito i consiglieri denunciano una condizione non solo di disagio ma anche di potenziale pericolo per i bambini infiltrazioni d'acqua vetri infissirotti nessuna tenda alle finestre per schermare il sole nessuno spazio d'ombra nell'aria esterna che è pure dissestata in più punti i consiglieri chiedono quindi di disporre una variazione di bilancio che consenta di utilizzare i mesi di chiusura estiva per il ripristino delle condizioni di efficienza dell'edificio e della sua corte in modo da restituirlo nella piena funzionalità in apertura dell'anno scolastico dalle scuole agli asfalti sui quali è intervenuta oggi fratelli di Italia Fano consigliamo all'assessore Brunori si legge in una nota di fare poco rumore e in maniera veloce asfaltare le strade fanesi visto che la città da questo punto di vista è una groviera buche avvallamenti sono presenti ovunque a dimostrazione di una totale mancanza di programmazione ed incapacità nella gestione dell'ordinaria amministrazione fanno sorridere ha proseguito il partito le dichiarazioni sulla presunta asfaltatura di 330 chilometri di strade fatte in questi anni sicuramente i cittadini non si sono accorti di questo immenso lavoro visto che le strade sono in gran parte impraticabili e ormai non si contano i tanti cittadini che ci segnalano situazioni pericolose buche enormi e auto danneggiate utilizzare account privati per comunicare i lavori da realizzare ha concluso Fratelli d'Italia riferendosi al profilo Facebook dell'assessore è inappropriato e inopportuno con tematiche di responsabilità civile ed extra contrattuale e nel pomeriggio è arrivata la replica dell'assessore Brunori le affermazioni di Fratelli d'Italia sono incoerenti quanto infondate ha detto coprire le buche rientra nell'attività ordinaria mentre asfaltare un'attività straordinaria questa amministrazione negli ultimi anni ha stanziato più di 7,5 milioni di euro per rinnovare i manti stradali e i progetti di manutenzione aggiunto Brunori sono stati eseguiti seguendo nuove modalità di selezione delle vie nuove tecniche e modalità di intervento il tutto con l'obiettivo di garantire elevati livelli di qualità con relativi controlli finali costante anche l'attenzione ambientale invece in merito alla gestione comunicativa dell'attività del settore lavori pubblici Brunori ha precisato mi attengo alla delibera di giunta che disciplina l'attività comunicativa istituzionale sui social e l'uso del mio profilo personale non sostituisce la comunicazione istituzionale garantita dalla legge riprendere e comunicare sul mio profilo personale contenuti dell'ente tramite annotazioni e commenti ritengo sia un diritto garantito dall'articolo 21 della costituzione pertanto ha concluso Brunori segnalo a fratelli d'Italia che il corretto dibattito politico non può invocare censure di alcun tipo chi ha più filo teserà più tela l'assessore Brunori ha fatto sapere che da lunedì prossimo a finile di fa non verrà aperto il cantiere per realizzare la nuova rotatoria all'altezza del distributore di carburante l'opera è progettata e realizzata dalla provincia in sinergia con il comune che compartecipa alla spesa ora ci spostiamo nel salone metaorense della prefettura a Pesaro dove ieri si è svolta la cerimonia del concorso Intercultura 2022 che partiranno per vivere e studiare all'estero sono 21 i 16 anni e i 17 anni premiati ieri che dopo aver vinto il concorso Intercultura partiranno per vivere e studiare all'estero dagli Stati Uniti alla Cina dal Ghana al Peru queste ragazze e questi ragazzi partiranno nel corso dell'estate per affrontare esperienze di vita nuove studiare con i loro coetanei di altri paesi e conoscere nuove culture per coronare la loro vittoria del concorso i volontari del centro locale di Pesaro hanno organizzato una cerimonia di premiazione il programma di Intercultura è un programma a livello nazionale che è associato all'associazione e al network di associazioni che sono in giro per il mondo in Italia abbiamo avuto nelle iscrizioni più di 7000 studenti che si sono iscritti delle superiori per partecipare ai programmi di cui ne sono stati selezionati circa 1200 dal nostro territorio ne partiranno 21 per programmi in tutto il mondo programmi più brevi come un programma di un mese fino a programmi annuali da paesi come la Cina gli Stati Uniti il Ghana o il Peru è un percorso che prosegue da diversi anni al 2016 sì beh diciamo l'evento di oggi prosegue dal 2016 ovvero la premiazione che facciamo insomma insieme alle autorità del territorio i programmi di Intercultura nascono negli anni 50 il nostro centro locale nasce circa 15 anni fa e da lì insomma è iniziato tutto il nostro percorso che si culmina oggi un'occasione importante per tanti studenti guardi io capisco benissimo gli studenti perché ho mia figlia che studia all'estero quindi so quando è impegnativo ma anche piacevole e soprattutto capisco diciamo i sentimenti dei genitori in questo momento perché c'è un pochino di tristezza però quando si sente poi la figlia felice di stare fuori di studiare di divertirsi allora anche come genitori poi si è felici sicuramente questa sarà una grandissima esperienza che servirà nella mia vita nella mia crescita che mi aiuterà in molte occasioni come affrontarle e quindi mi aiuterà sicuramente molto a crescere e che mi porterò dietro per tutta la mia vita penso e non vedo l'ora e sono davvero entusiasta di questa esperienza che avverrà quale sarà la tua destinazione la mia destinazione sarà negli Stati Uniti e più nello specifico il Kansas che già mi hanno detto la meta e sono in una piccola cittadina vicino a Manhattan Kansas al momento sono molto emozionata un po' agitata però non vedo l'ora di vivere questa esperienza perché so che riserva molte opportunità e anche mi arricchirà a livello emotivo diciamo quale sarà la tua destinazione è la Cina però la città esatta ancora non mi è stata comunicata sarò in boarding school quindi l'anno scolastico e mezzo alla settimana sarò sempre a scuola mentre durante le festività e il weekend quando la scuola ovviamente è chiusa starò in una famiglia ospitante una gestione attenta è una grande cura per i dettagli sono queste alcune delle prerogative che hanno permesso ad ASA e TESPA di ottenere la riconferma di tutte le certificazioni per qualità sicurezza e ambiente promossi anche gli impianti le reti e i cantieri e quanto emerge dalle due giornate di analisi 10 e 11 maggio eseguite da 5 ispettori di Rina Service che hanno scandagliato ogni singolo aspetto dell'attività svolte e infine promosso a pieni voti l'operato della società di servizi a giudizio del gruppo di valutazione il sistema di gestione risulta completamente implementato ben strutturato e monitorato in tutti i suoi aspetti anche il personale adibito alla gestione si è dimostrato molto preparato e adeguatamente formato torniamo ora a parlare del Brodetto Fest perché l'evento fanese è stato presentato a Londra due giornate per promuovere la manifestazione dal punto di vista turistico ma anche economico grazie ai nuovi accordi commerciali in vista del volo estivo verso la città inglese il Brodetto Fest sbarca a Londra dopo il debutto alla fiera mondiale della pesca a Barcellona gli organizzatori hanno rilanciato la carta dell'internazionalizzazione in una delle più grandi metropoli d'Europa centro culturale e commerciale fra i maggiori al mondo per siglare nuovi accordi economici anche in vista del nuovo volo Ancona-Londra a partire da luglio 2023 la manifestazione in programma Fano dall'1 al 4 giugno è stata presentata alla stampa inglese nella sede dell'Istituto Italiano di Cultura non è promuovere una ricetta ma siamo qui per parlare con gli importatori per parlare con le agenzie del turismo per parlare con i tour operator siamo qui per parlare con i grandi ristoratori che sono presenti italiani che sono presenti nella città di Londra lo abbiamo fatto presentando oggi il nostro festival lo abbiamo fatto oggi all'ambasciata italiana al centro italiano di cultura e questo credo che sia la miglior gratificazione che può avere il nostro festival dopo 21 anni di lavoro e 21 anni di promozione del nostro territorio della nostra marineria ad aprire la conferenza stampa è stato il vice capo missione dell'ambasciata d'Italia a Londra Riccardo Smimmo e in generale è un obiettivo importante portato avanti dalle autorità italiane nel Regno Unito quello di cercare di promuovere la qualità promuovere il territorio italiano in un connubio che di recente è stato esaltato proprio dalla visita qui recente del Presidente del Consiglio Meloni e del Ministro dell'Agricoltura Lolo Brigida con degli eventi che hanno proprio messo al centro la qualità dei prodotti italiani e credo che il Brodetto Fest sia un evento che sicuramente esalta queste qualità in un connubio con la realtà del territorio e della tradizione italiana La presentazione alla stampa con una degustazione finale di Brodetto alla Fanese accompagnato da Bianchello del Metauro Doc è stata preceduta giovedì 11 maggio da una serata di gala rivolta a 150 operatori turistici ed economici Londra per la nostra produzione agricola per la pesca per il vitivinicolo è una piazza davvero molto importante ovviamente abbiamo bisogno di promuovere grazie a questo prodotto la nostra terra questo grande evento che verrà fatto a Fano ma anche la capacità dei nostri produttori agricoli di stare in questo mercato maturo con difficoltà anche oggettive quindi sarà un lavoro che comincia da parte del governo è già iniziato anche da parte della Commissione Agricoltura che rappresento di poter confrontare le regole attraverso un rapporto bilaterale in modo che i nostri produttori possano entrare facilmente in questo mercato che fa una domanda di prodotti italiani molto forte noi vorremmo rispondere a quella domanda di prodotti La nostra città ha poi dichiarato l'assessore del Comune di Fano Eti e Lucarelli in mira a potenziare il turismo estero per questo stiamo portando avanti azioni di promozione Fano proseguitosi candida a diventare la destinazione ideale per il turismo inglese che è alla ricerca di un luogo con alta qualità della vita buon cibo grande cultura e paesaggi naturali incontaminati Abbiamo fatto due presentazioni importanti la prima insieme a 150 ristoratori grossisti gastronomi di Londra ai quali abbiamo fatto assaggiare i nostri prodotti tartufo il bianchero del metauro ed ovviamente il brodetto oggi qui all'Istituto Italiano di Cultura abbiamo presentato la nostra città è una bellissima conferenza con giornalisti londinesi con la stampa locale ed altri interlocutori e stiamo cercando di aprire dei rapporti importanti che possono necessitare la nostra città ecco dobbiamo accelerare in questo momento stiamo facendo l'11% del turismo estero ma abbiamo grandi potenzialità per attivare appunto degli scambi che sono sia economico-commerciali sia che guardano la nostra destinazione turistica dalla 13 al 20 maggio torna Fanno Artemista una iniziativa nata da una pagina Facebook che prevede una mostra con l'esposizione di 20 opere di artisti fanesi scomparsi l'inaugurazione tempo permettendo avverrà domani pomeriggio in piazza Cleofilo dove si esibiranno una ventina di artisti locali fervono i preparativi per Artemista Umberto come è nata l'iniziativa? L'iniziativa è nata seguendo la pagina di artisti e pittori fanesi che è una pagina Facebook nata nel pieno lockdown quindi in aprile del 2020 che io insieme al mio amico Samuele Bertini abbiamo creato questa pagina dove ci potesse essere la possibilità da parte di tutte le persone che sono appassionate di arte fanese e in più hanno anche opere di artisti fanesi all'interno di casa delle loro case e in più da coinvolgere anche gli artisti perché tra di noi nel tessuto sociale ci sono tantissimi artisti che sono pittori scultori o artisti che fanno grafiche che ci danno la possibilità di raccontare la creatività in generale ad oggi quanti sono i membri della pagina? Nella pagina ad oggi contiamo 2500 membri perché la pagina è nata con un tam tam mediatico molto molto veloce un po' la curiosità un po' la voglia di arte perché l'arte è sempre una cosa che ci dà la possibilità veramente di alleggerirci anche un pochino la testa se vogliamo e di curiosare all'interno delle case di tutti i fanesi per cercare di capire che cosa c'è e quindi siamo arrivati a questo bel numero oggi Artemista invece quando si svolgerà e come verrà strutturato l'evento? Artemista è la prossima mostra che avremo la faremo in piazzale Cleofilo che sarebbe davanti all'ingresso della chiesa del suffragio dove poi utilizzeremo anche lo spazio all'interno della chiesa del suffragio quali saranno gli artisti in esposizione? gli artisti in esposizione saranno Corsaletti Generali Marano e Palazzi ok quindi sono quattro artisti che non sono ahimè non sono più tra noi però c'è la possibilità di ricordarli con le loro bellissime e importanti opere vi aspettiamo presso piazzale Cleofilo con ingresso alla confraternita del suffragio nella settimana che va dal 13 maggio fino al 20 di maggio negli orari che sono dalle 18 alle 22 una raccomandazione se volete vedere una cosa veramente carina il giorno dell'inaugurazione quindi il 13 di maggio alle 18 ci sarà un plenare di 18 artisti contemporanei che lavorano dipingono lì di fronte alla chiesa in più una cosa molto importante vorrei ringraziare a tutte le società le persone che si sono adoperate a titolo completamente gratuito per la realizzazione di questa iniziativa vorrei ringraziare soprattutto il comune di Fano in particolar modo Cora Fattori e Etienne Lucarelli vi ricordo che lunedì prossimo in diretta a Primo Cittadino sarà nostro ospite il sindaco di Pergola Simona Guidarelli tra poco invece trasmetteremo subito dopo le previsioni del tempo uno speciale dedicato alla diciannovesima edizione della Colle Marathon buona serata su Fano TV Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti